Il silenzio Il silenzio non esiste. Credo che la creazione musicale sia strettamente legata con le altre arti e specialmente le arti che riguardano la scena, riguardano il teatro. Ogni movimento corrisponde a un modo di far passare il tempo. Ogni movimento corrisponde a un movimento corrisponde. Un movimento corrisponde a un sens temporel fluido, un devenir constant. C'est l'alchimie de tout ça qu'on arrive à écrire une oeuvre. Et je pense que d'ailleurs c'est comme ça que les choses peuvent être universelles. Un movimento corrisponde a un movimento corrisponde. 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 Grazie a tutti